vi faccio vedere in questo video molto rapido la k47 kalashnikov giocattolo la versione che abbiamo inveito attualmente è a frizione il tappo che non deve mai essere tolto dimensione decente non è una dimensione scala 1 1 però è decente è un bell'utile giocattolo che vi serve per completare molti costumi molti travestimenti ed è anche un bel regalo per i bambini prima schietta lo trovate in vendita su carnival halloween.com dove la festa diventa magia alla fine del video troverete anche direttamente la scheda con il link da cliccare per finire nel sito e acquistare il prodotto ciao